Ma il Parlamento, un bel disegno di legge per un nuovo ministero, ancora di più, bisogna puntare in alto. È vero, è vero, è facile, ma io mi vedo più ad alta forse anche il Parlamento. Vorrebbe fare il ministro. Ecco, il ministro. Ma il ministro quale ministro? Il ministro di cosa? Il ministro dell'istruzione, della sanità. No, dell'istruzione sessuale. Dell'istruzione sessuale. Oh, quello che mancava in Italia. Istituiamo un nuovo ministero. Va bene. Nelle scuole non insegnano niente, è vero che i ragazzi oggi sono troppo. Un po' di educazione sessuale, giusto. Allora lei si propone per questo. Qualche trucchetto anche, magari. Educazione addirittura sull'amore, perché il senso lo stanno praticando, ma l'amore hanno perso proprio l'abitudine. Va bene. Noi la ringraziamo. Grazie mille. In bocca al lupo. Per la carriera politica. E scenda in politica. La vogliamo. Ministro. Arrivederci. Grazie. Arrivederci. Salve, salve. Millie for president. Sì. Millie for president. Millie for president. Millie for president. Arrivederci. Ciao, ciao, ciao. Ragazzi. Che emozione. Emozionatissimo. Sì.